Ciao a tutti ragazzi, sono Sharp79, oggi facciamo un nuovo video su The Evil Within, un bellissimo gioco che ci farà cagare sotto, rigorosamente con il joypad per forza, adesso vediamo, io metto sempre il livello inesperto perché sono una pippa a questi giochi, scordatevi che gioco qua luce spenta, non esiste proprio una cosa del genere, calcolate, adesso, caricamento, il computer ci mette 3 secondi, la PlayStation è stata di 5 minuti, questa sequenza video, purtroppo quando converto i video io li frappo a 60 fps quando li vado a convertire a 30 per mettere su YouTube questo è il risultato, cioè i video, se vede, sono un po' lagosi, cioè ma non ci si può fare niente, calcola, ok, prestazione ho saltata, io vado direttamente al socio, prestazione di salto, non mi frega niente, bello, guarda che grafica, la grafica è spettacolare, bellissima, la grafica è unica proprio, veramente, fatto bene, guarda per terra, tiè, ho fatto la pioggia, l'acqua, i muri, il gioco è bellissimo, è fatto da paura, veramente, mmm, la poliziotta, dai a molla, corri, 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 devo andare dall'alto, lì c'è l'entrata principale, bello, guarda come sono fatte le scalinate, le scalinate sono fatte benissimo, adesso, vediamo un po', mmm, bello odore, odore di sangue, non sa che è schifo là dentro, e io stavo per entrare, vedo la porta, dentro, apro la porta, vedo trenta persone morte solo all'entrata, e io entro, certo, l'avevo proprio pensato, chi è, tutti spappolati, bene, 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 vedi, in questo ospedale non ti curano, in questo ospedale ti fanno a pezzi, probabilmente, mental hospital, bellissimo, cittua, fammi un'annata qua, va, la recepzione, vedi, la signorina non sta tanto bene, che te fa, dice, ma che c'hai, ma io niente, dice, il problema è se devi, io sto bene, se devi sta male, un'altra sequenza immaginabile, Ruvik, Ruvik, non so, manco chi è io, Ruvik, sarà qualche paziente, qualche dottore pazzo, i soliti, adesso, devo andare qua, controlliamo le telecamere, vediamo un attimo, ecco, ah, se stavano a sparare, che poliziotti, sì, ho capito, quanti colpiti sparavano a mazza uno, ecco, infatti, ecco la fine vostra, finito, ah, bello, mutasci tua, simpatico, questa è faccia, da paura, tiè, hai visto, eh già, come si dice, chi se fai i cazzi suoi a campare a cent'anni, mi piace la musichetta, ah, sì, questa è tutta la scena che ho visto sui video, che stai a testa in giù, e poi ti devi liberare, vabbè, ah, che schifo, il sorcio, siccome non poteva mancare il sorcio in mezzo alla zuzzeria, ah, guarda che c'è sta per terra, c'è sta proprio la, lo spappolume, la catavirina morta della gente proprio, cioè la puzza proprio se sente, ah, riesco a sentire tramite l'acqua e il monitor, simpatico, ah, sì, ma te non stai tanto bene, guarda che non mi ha dato una panza a pesa a testa in giù, eh, tiè, guarda qui, ah, senti che sta fa, ti senti, bene, 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 sta a far pezzi, tre ore, intanto io poi guardo un turno, guarda che figo, ah, vedi, ah, vabbè, si è preso un pezzo di spalla e deve fa, deve fa netto decotto, ok, LS, vai, avanti, oh, avanti, oh, via sto cazzo i cortelli, dai, devi via il cortello qua, prendilo, vai, prendi il cortello, eh, terzo tentativo, vai, yurikeki, ok, adesso, ah, moffitamente posso giocare io, eh, fino a modo, ti devi solo dondolare, tutta interazione, ok, bello, grafica, assurdo, veramente, bellissimo, passo da qui, passiamo subito, ecco, accedi, tagliamo fino, vai, ci, che se non me lo magno, va, da là, eccolo, qua, mi pare, dove pieghi avvi, eccole, piegiamo i chiavi, sì, 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 ok, subito, via, 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 è un po' lento, eh, sto gioco, eh, però, è fatto bene, fino a mo', anche io voi dico, adesso qua, guarda, devi aprire sta porta sempre qua, chiave, vai, apri una porta, tre ore per aprire una porta, ok, come tutti i giochi horror, no, che quando ti apri una porta e ti disbriga, tre ore per girare la chiave, poi la porta fa sempre rumore, ma è una porta che si apri silenziosa, in un posto del genere, ne esiste proprio, ok, andiamo di qua, andiamo, vai, scusate, ma c'ho l'ansia, eh, se mi vedete che faccio così, perché sto, sto a ballacare la gamba, c'ho proprio il kick, ah, bene, mi ha scattato l'allarme, via, 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 taci tua, bello, bello, però è fatto troppo bene, cioè, bellissimo, veramente, senti l'audio, ma che se, ma te daje, te daje, taci tua, ah, mi ha fatto male la gamba, ma un attimo, e mo', ah, sì, 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 questo pure l'ho visto sui video, corri, 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 corri al cazzo, un po' a camminare, va, mi devo buttare dentro la botola, vai, dentro la botola, dentro la botola, vai, a botola, che è? Ah, ho capito, mi devo muovere, devo schivare le cose, destra, 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 Madonna, 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 sai che ti sei bevuto? Che schifo, sali, va, sali da qua, abbiamo fatto il bagno nella piscina di sangue, oh, qua, sinistra, no, ma che pare, ma che cammino tutto il tempo così? Bello, mamma mia, guarda com'è fatto, cioè, guardate com'è fatta la porta e il muro, effetti di luce sulla porta, cioè, la porta è di ferro e si vede che il materiale è metallico, cioè, allora, effetti di luce pure sono fatti bene, guardate il ventilatore, ecco, a me mai capire sempre la roba pulita, dentere i fogne, mamma, che schifo, ecco, vai, puntate qua, bene, così, te sciamo qui in po' il sangue da dentere le mutande, te sciamo qui del sangue di prima, vai, vai, sali qui, vai, qui, vai, qui, via, via, qui, sempre gente spappolata, qui c'è stato un altro morto, ecco, dove sarà l'uscita? Non sapevo, se lo sapevo non stavo qui, ecco, che schifo sto vizio sui giochi dei raccogli, è roba da gente morta, cioè, oh, questa è chiusa, qui, c'è stata una scala, per forza qui, eh sì, per forza anche bisogna andare, sì, ho capito, sei ore, per salire a scala, sì, stai per arrivare, quindi qua c'è la bella canzone quella, I believe I can fly, col culo che c'ho io, ero morto 15 volte già da quando è cominciato il gioco, presto a poco, qui c'è stato un computer, ah, un computer, mi dico dovevo formatare tutto, pure qua mi tocca formatare il computer, mortaggio vostra, qui si apre, ah no, c'è stato il tasto, aspetta, qua, bisogna che prendere qua, vai, apriamo, apriamo la porta, andiamo, bello, 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 ogni volta che vedo il riflesso da la luce sul muro, che si vede proprio che è metallizzato, che è metallico, scusate che il muro è proprio di ferro, cioè, se le scienze del cemento, e il metallo, e mattonelle, cioè si distinguono bene proprio, bello, c'è un bel test selection sto gioco, mi piace, si può fare, anche se non è il tipo del gioco mio, cioè del gioco a cui gioco io, io gioco sempre, hai sparato tutto in prima persona, giochi in terza persona, tipo Resident Evil, non so che non c'è capisco un cazzo, fuori della, ma che giocatore sei se non giochi Resident Evil, via, 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 aspettate, scusate, dentro l'armadio, dentro l'armadio, e daie, daie, oh, mortacci tua, oh, ecco, fatto, posto, dicevo, io non so il classico tipo che gioca, giochi tipo Resident Evil, e voi direte, che video giocatore sei se non giochi Resident Evil, intanto questo sta a spacca tutto, sta a far macello, non mi piace, eh, io ho cominciato, io ho cominciato i videogiochi con gli sparatutto, con i giochi da macchine, con i simulatori da aerei, quindi non ci ho mai giocato fino a mo', però diciamo ecco, ultimamente se mi rifanno tutti così, le grafiche, le giocabilità, è figo dai, vai, a fine calcolate che l'80% del gioco è tutta cosa, c'è tutta interazione, cioè poi cosa fa? questo che sta a cazzato nero, beh, sta a spacca tutto, beh, è fatto bene però, mazza, ha pure la luce che si muove dentro la stanza, che tu vedi l'arvalente è fatto bene, sarà nato, ruota visuale esce, ah, ok, namo namo, namo 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 namo, qua c'è questo pezzo che ho visto sul video dei 5BJ, che ti devi appizzare, eh, infatti io vedi, ecco, non sapevo l'essere demico quando ti, ti cercano, hmm, ciao G, no, 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 l'ha visto, no, I can't let them see me, no, giù, giù, vai, 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 rapizzino, vai rapizzino, vai, via, 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 vai, 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 no, non, qua, no, qua, chiuso, qua, 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 E dai, mamma mia, non supporto più Con sta motosega il rumore è fatto benissimo Ma è fatto veramente bene Ecco, c'è l'occhio che vuol dire che mi ha visto Che vuol dire l'occhio fisso Ecco, mi ha visto Dai, 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 dai Mi ha visto la porta Dai, dai, pure questa Vai Ok Via, 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 via Mamma mia Quanto odio le carrozzelle Io, negli ospedali abbandonati Ecco, tu lo ti è Ti è, vai, scappa, scappa Questa è un'altra scena di interazioni Qua di che sono andati E basta Ecco, qua scavarca Ma è proprio fatto bene Ma però 100% italiano Fatto benissimo Ecco tu lo, eccola, eccola Va, vai, via Ciao, G Che culo che c'hai, eh Purtroppo è una vita reale Da mo' che ero morto Dai, va Oh È finito, non lo so Sì, è finito Boh Che dicevi che io non ho mai visto tutto Fino alla fine, sto pezzo Uno perché non manava Ad esplorarmelo tutto Sui video YouTube E uno perché Non c'ho mai giocato A me Questo è il primo video Che frappo, questo gioco De solito c'è gioco prima I suoi memoria Che hai presentazioni Pensa Che il gioco ancora doveva cominciare Cioè, mo' sta a cominciare Vai Sartamo Bello, mazzo Guarda com'è fatta la luce Per terra Cioè, si difende E riflesso Questo è il pezzo Che ho visto prima Da i telecamere Dove c'è stava quello Che ha ammazzato i puliziotti Infatti c'è stanno i tre puliziotti Morti per terra Qui c'è la sensazione Che m'ocorolla Aie Corì Via Via, 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 via Via, via, via Fuori, 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 fuori Fuori, fuori Sono uscito Sono uscito Sì Sì Io ho fatta Ci ho fatta Sono uscito di fuori Bello Ah, ecco Mentre ero dentro A pararmi il culo di fuori Ah, c'è una totale Successo un macello Carcola Bene Chi è questo? Chi è? Detective Dentro, dentro Quanto te voglio bene Frate, mi sono venuto a prendere Chi è questo? Grande collega mio Andiamo qua Via 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 Sì, basta Un po' salto pure questa Un'altra due interazione Cioè Vabbè Credo che sia finito comunque Vedete Che succede Ecco Pazza però è fatto bene È fatto veramente Veramente bene Finalmente il quadro è finito Se se morate dal cazzo Pure il primo quadro di sto gioco Poi Se vi piace Farò altri gameplay Sempre del gioco Andando avanti Vedremo il secondo capitolo Il terzo capitolo Se vi pare Vediamo un attimo Ricordatevi di iscrivervi al canale di Youtube Mi raccomando Ci sono tantissimi video Sia quelli che carico io Che carico Gli altri ragazzi del clan Mi ricordo Clan Itac Itac Multigaming Itac Killers Sotto al video Ci trovate tutti i link Di Facebook Youtube E tutto quanto il resto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Un bacio a tutti Ciao Bella da Sharp Ciao belli